Adesso penso sia interessante sapere cosa pensino della trasformazione digitale, chi conosce bene le imprese e l'economia. Abbiamo ascoltato parlare della trasformazione digitale da Stevie Kim e chiamiamo quindi per un breve panel a un commento il professor Romano Prodi, presidente del collegio di indirizzo della scuola, Stefano Domenicali, un laureato dell'Alma Mater di Ventà. Potete applaudire mentre li chiamo uno alla volta. Laureato dell'Alma Mater, presidente e CEO di Lamborghini Automobili, Luca Garavoglia, presidente del gruppo Campari, imprese italiane in grande sviluppo all'estero, Nicola Pianon, senior partner e managing director di BCG e componente dell'International Advisory Board di BBS e l'assessore Bianchi. Grazie. Buonasera, saremo telegrafici anche visto la temperatura e l'orario. Il parlare di digitale oggi è abbastanza scontato, immanente. Il digitale ormai attraversa non solo il mondo delle aziende ma anche quello del sociale e quello dell'education, il vostro in primis. Noi di BCG ci occupiamo moltissimo di digitale ormai da 15 anni circa, facciamo molti progetti, abbiamo creato otto società che fanno solo digitale, alcune che fanno start-up in California, ovviamente vediamo il grande valore di questo per le aziende. Ci hanno chiesto un po' di commentare qual è un po' la situazione, quali sono le sfide per l'azienda del Made in Italy che sono ovviamente molto importanti per noi, soprattutto a livello di sviluppo internazionale. Prenderei molto rapidamente nell'introduzione due lenti. Una è quella del sistema, quindi quanto il sistema Italia è di aiuto, di supporto e quanto invece ci dà uno svantaggio in questo momento. La seconda lente è quella invece delle aziende, come vediamo noi da analisti, diciamo la situazione delle aziende e poi abbiamo qui un presidente e un amministratore delegato di due grandi aziende che possono ovviamente dire la loro esperienza diretta, mentre sul sistema Italia abbiamo il presidente Prodi che ovviamente ci darà uno spaccato molto molto importante. Dico un flash sul tema del sistema. Noi di BCG nel 2009 abbiamo creato con Google un indice che si chiama Intensity Index su cui lavoriamo su 73 paesi del mondo. Questo indice considera diciamo tre cose, uno è un po' il sistema di infrastrutture digitali che un paese ha, il secondo è un po' il livello di spesa, quindi quanto pesa l'e-commerce, quanto pesa il marketing digitale e il terzo è il livello di utilizzo, l'engagement dei consumatori, del governo e ovviamente delle aziende. Bene, sui 73 paesi l'Italia nel 2016 è trentanovesima. E rispetto a tre anni fa ha perso tre posizioni, giusto per dare un'idea all'Olanda è quinta, la Germania è diciottesima, la Francia è ventunesima e quella che ormai chiamiamo una nazione ex-europea come la UK è addirittura seconda al mondo a livello di intensità del digitale. È chiaro che con questo flash, che non è un flash perché è un dato quantitativo che noi pubblichiamo ogni anno, l'Italia come sistema paese non è in grado di dare un vantaggio competitivo ad oggi, quindi da ritardo. Per quanto riguarda la seconda lente, che è quella delle aziende, anche qui vediamo a livello generale, ripeto qui abbiamo due aziende eccellenti, grandi, globali, per cui sicuramente molto avanti e molto sviluppati in questo territorio, però la media delle aziende italiane in settori come l'alimentare in particolare, ma anche il fashion e il luxury, comunque mostra un ritardo abbastanza importante. Come analisti vediamo sicuramente poche competenze all'interno delle aziende, soprattutto i livelli senior o quelli più manageriali, vediamo pochi talenti sul mercato da assumere e ce li si contende in maniera molto aggressiva, vediamo anche un po' una cultura aziendale un po' resti al cambiamento rispetto a tutto quello che il digitale potrebbe offrire. E poi da ultimo, tema caro ovviamente a tutti noi, anche al presidente Prodi, avendo l'Italia moltissime piccole e medie imprese, queste fanno un po' fatica ad investire, per la loro dimensione e la loro taglia hanno chiaramente uno svantaggio competitivo che non riescono ad accedere al digitale. Sulle sfide, e con questo poi chiederò la collaborazione dei miei colleghi, diciamo sulle sfide direi, su quello che, come sta cambiando il comportamento del consumatore, direi sicuramente la prima cosa che segnalo è la multicanalità, il fatto che ormai il 60% degli acquisti dei consumatori nei mercati internazionali viene impattato, influenzato dal digitale e questo comporta la gestione di una realtà multicanale che è molto più complessa per le aziende, per il pricing che diventa trasparente, il controllo degli stock, la formazione delle persone che devono vendere sapendo che si vende in una realtà multicanale, il tema dei resi, il riconoscimento dei clienti fedeli che entrano in contatto con i marchi da tanti punti di vista. Il secondo elemento che segnalerei è quello dei millennials, voi lo siete, i millennials hanno un comportamento digitale molto spinto e hanno una forma di dialogo con i brand molto molto alto e poi dei comportamenti molto aggressivi dal punto di vista digitale. Pensate che i millennial nel lusso, in una ricerca che abbiamo presentato all'inizio anno, un consumatore millennial su due quando è dentro un negozio confronta il prezzo del prodotto che vorrebbe comprare su internet in tempo reale. Questo obbliga ovviamente a una gestione del prezzo rigorosissima, ma anche a un cambiamento di mentalità fortissimo. Non ultimo, per chiudere, a livello di sfide, oltre a questi due flash che ho dato sul comportamento consumatore, parliamo di, come sfide per le aziende, di un cambiamento radicale nel media mix, quindi di come vengono spesi gli investimenti marketing, l'evoluzione dei modi di produrre, di cui immagino ci parlerà il dottor Domenicali tra poco, quindi il manufacturing 4.0, i robot intelligenti, le stampanti 3D e da ultimo l'evoluzione del controllo sugli stock, l'RFID è diventata una tecnologia molto accessibile e questo cambia tantissimo. Quindi in sintesi diciamo, il sistema Italia lo vediamo un po' in ritardo, le aziende italiane medie, ripeto, non quelle qui rappresentate, sicuramente hanno molto da recuperare rispetto ai concorrenti, in particolare anglosassoni e giapponesi. Io a questo punto mi sposterei un po' ai miei illustri colleghi, partirei per seniority, rispetto ovviamente dal Presidente Prodi, e chiederei magari a lui di darci un po' la sua percezione, quello che lui ritiene essere un po' la situazione del sistema paese come strumento ovviamente e piattaforma di supporto alle aziende del Made in Italy. Presidente, prego. Vi ringrazio dell'invito, vi faccio la promessa che non voglio che questa cerimonia duri più di tutto il vostro anno accademico, quindi sarò brevissimo. Sarò brevissimo. Primo punto, siamo di fronte a una rivoluzione industriale infinitamente più complessa delle altre, non sto a spiegarvelo per il motivo che vi ho detto. Sono implicati un'enormità di diversi campi con diverse tecnologie, le chiamano gli esperti Key Enabling Technologies, cioè nanotecnologie, microelettronica, biotecnologie, materiali avanzati, fotonica e potrei continuare un mese. Si usano strumenti nuovi, computer integrati, stampanti 3D, quindi rivoluzione nelle tecnologie, rivoluzione nelle scienze applicate, rivoluzione nei metodi di produzione. Occorrono quindi alti livelli di tecnologie, alti livelli di capitali, ricerche e sviluppo e soprattutto cicli di innovazioni integrati e rapidi e investimenti a lungo termine nelle persone. Questo è quello che oggi occorre e in Italia non ne abbiamo molti, non mi dilungo. Si apre, certo questo secondo aspetto, apre nel mondo un grave problema di occupazione. Non insisto, ma voi che avrete della responsabilità nei settori produttivi, l'attenzione alle risorse umane e al problema occupazionale diventerà drammatico, perché c'è veramente una sostituzione totale dei modi di produrre che implica un cambiamento altrettanto totale nelle risorse umane. Le intere classi sociali verranno deplacate, messe da parte, e l'ascensore sociale funziona oggi a fatica e se non stiamo attenti, se non abbiamo nuove risorse umane, funzionerà ancora più a fatica il futuro. Quindi noi abbiamo la necessità di formare, e questo è proprio l'obbligo della business school, un numero di persone sufficienti per avere un'elite che trascini almeno una parte del sistema lavorativo verso l'alto. Questo è quello di cui noi abbiamo bisogno. In Emilia-Romagna la possibilità di combinare queste risorse c'è. E, come ha sottolineato molte volte Bianchi, è la patria dei big data in Italia. Abbiamo i grandi centri di analisi dei dati che sono oggi lo strumento principe per mobilitare la nuova produzione industriale. CNR, Università, Cineca. Il problema è legarli sempre più strettamente al mondo produttivo, non solo quello industriale, ma quello produttivo in generale. questo lo abbiamo sempre fatto nella nostra industria, di legare diverse tecnologie. Il packaging nostro, la nostra meccanica strumentale, va bene perché ha sposato l'elettronica, la meccanica, l'oleodinamica e le scelte dei materiali. È necessario quindi un salto in avanti anche nel nuovo mondo. Quindi, raccogliere tutti questi dati, raccogliere tutti i dati necessari che, e non sto a spiegare, sono la condizione per rivoluzionare tutti i sistemi produttivi e per integrare tutte le attività del mondo e poi processarli e metterli al sistema. Ad esempio, usare le stampanti A3D proprie di altri, computer che sono distanti a migliaia di chilometri, personalizzare, usare la personalizzazione e la flessibilità che sono le nostre caratteristiche anche nel nuovo mondo. Non illudiamoci che queste nostre caratteristiche rimangono solo nostre. Se nel mondo abbiamo una macchina utensile di grandissima produzione di massa, oggi è giapponese, media sarà tedesca, specializzatissima sarà italiana. Attenzione che la rivoluzione industriale rende possibile personalizzare queste nuove attività anche nelle grandi produzioni di massa, anche da parte delle grandi imprese. Quindi attenzione di non illuderci che non si possa con le nuove tecnologie sostituire lo skill del nostro capitale umano. È possibilissimo. Siamo a rischio se non ci rinnoviamo. I tedeschi e i cinesi possono acquistare la nostra flessibilità che loro non hanno attraverso le nuove tecnologie. Dobbiamo quindi essere tra i primi a integrare queste nuove possibilità e partecipare a formare i nuovi standard che detteranno le regole della produzione. Noi siamo fuori da questa forza che regola gli standard futuri. Allora l'Italia parte svantaggiata e l'amico Bergami che qualche volta è saggio ha scritto su 24 ore che noi abbiamo bisogno di potenziare tutte queste reti per avere il capitale nuovo. E noi nella nuova regione dobbiamo avere queste nuove eccellenze che aiutano a colmare queste lacune come il centro for digital business education fatto dalla business school con i Ux Net-a-Porter e nuovi skills che debbano comunicarsi dall'università all'industria. Questo è il spirito che dobbiamo adottare questa è la garanzia per il vostro futuro di essere attivi protagonisti nella nuova manifattura. Grazie. Grazie Presidente. Chiederei a questo punto a Luca Garavoglia dal suo osservatorio di Presidente della Campari di dirci un po' quali sono un po' le esperienze di Campari diciamo nel digitale quello che sta costruendo anche un po' il suo punto di vista su dove stanno oggi l'azienda del Made in Italy e magari di dire secondo lui quali opportunità si offrono per i ragazzi come voi che arrivano al mercato del lavoro e quindi cosa il digitale e questa rivoluzione vi può offrire. Prego Presidente. Grazie. Ma credo che Romano Prodi abbia perfettamente ragione nel dire che il digitale pone delle grandi sfide ma a persone come voi pone anche delle grandi opportunità perché soprattutto nella comunicazione il digitale vuol dire sostanzialmente passare da un sistema chiuso pochi canali televisivi pochi giornali poche radio a un sistema aperto dove ognuno fondamentalmente ha una scelta infinita dei propri modelli di consumo da un sistema proprietario dove qualcuno vende o affitta uno spazio ha un sistema liberamente disponibile ed ha un sistema unidirezionale dove la comunicazione è solo diciamo one way a un sistema dove invece c'è un dialogo con il consumatore questo cosa vuol dire che è più difficile ma è anche una grande fonte di opportunità perché le risorse diciamo hard tipo i soldi contano meno di quelle soft tipo la creatività questo è assolutamente evidente per cui per quanto riguarda la comunicazione essere diciamo creativi e capaci è importantissimo e per voi è una grandissima opportunità naturalmente c'è anche un aspetto che più si è profilati meglio è cioè nel sistema vecchio c'era una sostanziale alto costo per contatto bassa qualità del contatto nel sistema nuovo c'è un costo per contatto molto alto ma molto profilato e quindi potenzialmente di qualità migliore e anche in questo caso sapere segmentare i propri consumatori è una cosa che diventa importantissima il digitale è nato nella Silicon Valley con l'unico paese che rappresenta in questo momento qualche cosa di rilevante che è la Svezia perché tutte le start up digitali che hanno avuto successo tranne Spotify e Skype sono nate in America Spotify e Skype però sono nate in Svezia quindi in realtà anche l'Italia può fare qualche cosa e se andiamo a vedere che cosa ha creato la Silicon Valley sono fondamentalmente tre cose l'intelligenza perché ha attirato dei talenti il capitale perché c'è il venture capital e le università perché c'è un sistema molto virtuoso in cui le università dialogano con le imprese noi le intelligenze le abbiamo siamo carenti di capitale ma oggi il capitale non è più una risorsa scarsa e da questo punto di vista le università possono fare un lavoro eccellente e credo che la business school da questo punto di vista sia importantissima per creare un cammino virtuoso in questo senso grazie 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 al presidente Garavoglia chiederei questo punto a Stefano Dominicali che gestisce un marchio mitico per chi ama i motori come Lamborghini che cosa vuol dire qual è l'impatto della rivoluzione digitale in un settore come l'automotive come quello delle auto sportive di lusso e chiaramente come impatto su un marchio che comunque porta il made in Italy diciamo nel mondo prego ma è chiaro che la sfida del digitale per un'azienda come la nostra ha delle implicazioni su livelli diversi uno che possiamo dire generale che coinvolge tutte le aziende nel settore manufatturiero che è quello della appunto manufacturing 4.0 che coinvolge quindi un modo diverso di lavorare di produrre di lavorare sulla simulazione quindi di accorciare i tempi di poter essere integrati e quindi sotto questo profilo nulla di caratterizzante se parliamo di automobili rispetto ad altre aziende che producono bene di altri servizi per quanto riguarda invece il tema più specifico delle vetture come le nostre è chiaro che il digitale ha una rilevanza sempre più importante non solo per quelli che sono i servizi che oramai sono all'ordine del giorno e l'attenzione è sotto gli occhi di tutti ovvero le vetture che avranno sempre di più informazioni avranno le possibilità di scambiare dati avranno la possibilità di essere e di muovere la vettura in un sistema integrato di servizi di mobilità dall'altro parliamo invece di dare la possibilità ai clienti e ai sistemi che gestiscono tutti i servizi che dobbiamo creare per soddisfare i nostri clienti la possibilità di essere personalizzanti come diceva prima il presidente Prodi credo che sia una delle sfide in questa area dove il digitale dà la possibilità di avere competenze a basso costo a tutti i livelli in tutto il mondo e quindi sotto questo profilo l'industria automobilistica si è messa in moto da parecchio tempo per poter essere tra le prime industrie ad avere un effetto diretto su quello che è il proprio prodotto rispetto a quelli che sono i propri clienti la domanda relativa all'effetto della digitalizzazione sull'automobile ha risposte diverse perché un conto è parlare di vetture come le nostre super sportive che hanno un utilizzo molto particolare un conto è ovviamente parlare dell'effetto del digitale su vetture diciamo di segmenti diversi che vengono utilizzati per spostarsi abbiamo già visto ma credo che chiunque sia appassionato di automobile abbia già visto lo scenario di quello che rappresenta la vettura in un contesto di mobilità integrata dove praticamente solamente come si guida cambierà per il semplice motivo che quando si arriva in area urbana i passeggeri a bordo chi guiderà avrà la possibilità di fare tutt'altro che guidare noi è chiaro siamo in un segmento opposto quindi la domanda legata a quale sarà l'effetto del digitale sul prodotto della Lamborghini è chiaro che ha due tipi di risposte per essere puntuali è chiaro che noi dal 2018 lanceremo un modello nuovo una SUV molto particolare che rappresenta un terzo prodotto in un portafoglio che va a diversificarsi per quanto ci riguarda e quindi sotto questo aspetto i servizi del digitale di una vettura connessa saranno quelli più legati agli aspetti tradizionali per quanto riguarda le vetture super sportive al di là dei servizi che servono per conoscere meglio i clienti per poter offrire sempre di più dei servizi personalizzati io credo che l'area del digitale possa rappresentare uno strumento che per chi ha la passione di guidare delle vetture particolari con contenuti tecnologici straordinari con un design tipico italiano possa rappresentare ad esempio per fare proprio un esempio puntuale la possibilità di migliorarsi nella guida utilizzando dei parametri che in tempo reale ti possono essere trasmessi sui display quindi ripeto il digitale offre al mondo automobilistico una serie straordinaria di opportunità che devono essere sfruttate però io ci tengo perché vengo da un mondo sì di vetture sportive ma vengo da un mondo dove credo che sempre la differenza la facciano gli uomini e le donne credo che l'area del digitale ci darà la possibilità di essere protagonisti in maniera sempre più convincente e più puntuale e sotto questo profilo credo che la capacità di essere innovativi e di proporre alle aziende che sono dei sistemi talvolta abbastanza lenti nel prendere decisioni nel reagire di pianificare e mettere in moto le cose possa essere un'opportunità straordinaria per chi ha la voglia di essere protagonisti e onestamente chi non vuole essere protagonisti non può coordinare la Lamborghini grazie grazie Stefano Domenicali prima di chiudere come abbiamo promesso e di rimanere nei tempi farei magari soltanto una domanda al dottor Bianchi che buonasera dottor Bianchi che si occupa di innovazione professore Bianchi magnifico professor Bianchi che si occupa ovviamente di innovazione magari gli farei una domanda più legata a dove stiamo a livello di impatto del digitale un po' sulla macchina pubblica che comunque diciamo lo Stato il Governo la macchina pubblica e un po' il territorio invece d'Emilia Romagna il Presidente Prodi prima diceva qui ce la possiamo fare qui ce la possiamo giocare quindi magari queste due domande un po' come vede il livello di sviluppo del digitale della macchina pubblica e l'altra invece della regione Emilia Romagna io non capisco perché mi fanno delle domande che poi non so rispondere comunque proviamo un po' di creatività ci vuole ancora allora la prima cosa però riprenderei quello che ha detto il professor Prodi attenzione che il digitale non è un comparto dell'industria ma è una roba che attraversa tutta l'industria e la vita di tutti quindi anche tutta la parte dei servizi tutta la parte di quelle cose che sono fondamentali per fare il sistema allora l'importante non è dove siamo siamo come tutto il paese ci sono delle macchie c'è un paese a macchie c'è un paese che ha delle macchie di pubblico che funzionano benissimo c'è un paese che ha delle macchie di industria che funzionano benissimo e il nostro problema è la ricucitura la ricucitura paese io credo che un buon approccio non solo al digitale ma al capire come ogni pezzo del nostro sistema oggi vive di grandi problematiche diventa fondamentale fatemi fare un esempio quando si parla ad esempio di cambiamento climatico e di ambiente evitate di pensare che questo è un problema che riguarda soltanto le quattro imprese che si occupano di questo sono le grandi tematiche che attraversano tutto il sistema produttivo dentro un sistema produttivo c'è anche il sistema pubblico il vero problema è che siamo a macchie a macchie siamo a macchie in Europa siamo a macchie in Italia siamo a macchie anche in questa regione per questo occorrono dei manager che facciano quello che ha detto prima Max non pensate che il manager di oggi è semplicemente uno che fa una buona efficiente gestione questo è importante per le imprese che fanno cose ma è importante anche per le imprese che fanno servizi insieme con Francesco Frieri stiamo ragionando come facciamo a formare i nostri manager del settore pubblico e stiamo ragionando che le differenze non ci possono essere perché bisogna essere persone che sono capaci di cucire però attenzione le prime cose che dovete cucire sono le persone che lavorano con voi è finita l'epoca dei manager che semplicemente mettono gli uni in concorrenza con gli altri occorrono delle persone che sanno fare a mettere insieme delle squadre e che hanno però la capacità di avere grandi visioni ricordatevi che c'è una differenza fra capire e comprendere capire e prendere le cose me le tengo comprendere e metterle insieme questo è il vostro mestiere ed è sempre di più il mestiere anche del comparto pubblico grazie io mi limiterei a ringraziare diciamo tutti i colleghi che hanno dato il loro parere il digitale farà parte della vostra vita ancora più che della nostra insomma approfittate ne avete un'occasione straordinaria potete cambiare il mondo veramente noi ci abbiamo provato senza il digitale vi invitiamo a cambiarlo con il digitale buona fortuna grazie